Come al solito, al tradizionale vostro raduno di Ex Dall'Ublu, Ex, ve l'ho detto anche l'altra volta, non mi sarete mai, perché questa passione rimane, penso che rimane sempre da questa vita, ovvero che uno trova una passione del genere, lo rimane sempre, eh? Quindi benvenuti nella nostra sede, ci accomuna per noi un'altra passione che è il canto, voi siete appassionati di calcio, anche di musica, perché abbiamo qui cittadino, cioè 3 del 27, e quindi cantiamo per voi molto volentieri anche per formulare da parte nostra i migliori auguri per le festività che stanno arrivando. Il direttore sarà sempre il maestro Fabrizio Cassi, al pianoforte il maestro Bedeschi Maria Rosa, i suoi listi saranno Althusa Minasci, soprano, e il tenore Lido. Attenzione! Allora, iniziamo con un canto tradizionale, Natalizio, se volete unirvi a noi, cantiamo tutti insieme, a solo nel senso, invito la pianista Maria Rosa Bedeschi e il maestro Fabrizio Cassi. Grazie. 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 grazie a tutti